Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Quante volte abbiamo sentito dire la gente non capisce di musica, ad esempio. Può essere vero? Cantare in libertà Ogni persona ha dei gusti musicali differenti. Questo in base a dove ha vissuto, alla musica che ascoltavano i suoi genitori quando era piccolino, alle amicizie che frequenta, a una serie di cose che li portano ad ascoltare un genere musicale ben specifico o più o meno ascolta un po' di tutto. Insomma, qual è la musica migliore da poter ascoltare? In realtà la musica migliore per tutti non esiste. Ognuno ascolta quello che gli piace, quello che gli fa vibrare l'anima, quello che lo emoziona o lo diverte o gli permette di ballare, ad esempio. NAPOLI 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 Ognuno ha i propri gusti e vanno rispettati. Non è che se una persona, ad esempio, è un musicista ed è un esperto di musica, è più importante quello che pensa lui rispetto a chi ascolta solo musica e basta, e fa un altro lavoro nella vita. Anche perché quando noi alziamo gli occhi al cielo, non abbiamo bisogno di essere degli astrofisici per incantarci delle stelle. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.